Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi si ve lo annuncia una giornata di tantissime novità Quindi al momento vi porto questa qui Poi nel corso della giornata ovviamente se ci sarà altro da dire da portare Registrerò il video Come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale Di postare il link social in descrizione Grazie mille Allora abbiamo visto i primi spoiler della nuova carta Skystryker Abbiamo visto che è una spell rapida Quindi la linkage è una spell rapida La vediamo qui dietro al Kaiju Skystryker Lamp Quindi ok Confermato carta magia è rapida Quindi già partiamo malissimo Sarà fortissima Poi Legendary Duelist Da noi non ci sarà Nash Ci sarà Mako Tsunami Vabbè penso che ci stia di più come scelta Perché non lo so Io la vedo più giusta Poi però ovviamente io crescendo con i primi Yuki La trovo più giusta come scelta Poi magari che ha apprezzato di più Zexal Oppure che è cresciuto con Zexal Magari avrebbe preferito Nash A me non è che cambia molto A me piace molto la copertina con Mako Tsunami E quindi va benissimo per me Per me va benissimo così Poi nuova carta Libromancer Geek Geek Boy Psico livello 3 Possiamo rivelare un mostro rituale Nella mano Per specialare questa carta appunto Dalla mano Se questa carta viene specialata Possiamo aggiungere un Libromancer Una magia Libromancer Dal deck alla mano Ogni effetto una volta per turno Quindi ok In realtà non so se esistono già Libromancer Questa è un'esclusiva TCG Quindi dai Buono Tanto poi lo rimporteranno in Giappone Poi Carta che ha un effetto segreto Ma che viene detto Appunto Cioè appunto Che interagisce molto con gli zombie Quindi altra cartina per lo zombie La Changish the Spiritualist Quindi Changishi Changishi The Spiritualist Ok Livello 6 Potrebbe essere molto interessante Andiamo a vedere Due carte ora di Dimension Force Quindi Abbiamo Mamma mia Questo è gigantesco Abbiamo Questo è gigantesco Psychic And Punisher Livello 11 Un tuner Più uno Più mostri Non tuner Quindi è generico Se i nostri life points Sono uguali e inferiori Ai life points Se l'avversario questa carta è immuna Agli effetti attivati dell'avversario Una volta per turno Possiamo pagare 1000 life points Per targettare un mostro Che noi controlliamo una carta dell'avversario E bandiamo entrambi i target All'inizio della battle phase Questa carta Possiamo far guadagnare Attacco a questa carta Pari alla differenza di life points Dei giocatori Ed ha 3500-3005 Quindi La vediamo molto molto La vediamo molto molto bene Soprattutto poi In punk Mi sa che Comunque Essendo un Carte Psichico E comunque ti fanno perdere l'LP Tanta roba Secondo me Potrebbe essere Veramente gigantesco E un'altra grandissima carta Per gli Exorcister Veramente Molto molto forte Exorcister Magnifica Livello 8 2008-2008 Guerriero Rank Vabbè Può essere evocato Utilizzando due Mostri di rank Exis Quindi non servono Mostri di livello 8 Può attaccare due volte Una volta per turno Possiamo staccare Un materiale Da questa carta Bandiamo una carta Dell'avversario Senza targettare Quando l'avversario Attiva una carta O un effetto Possiamo staccare Un materiale Exis Ed evocare Quel materiale Exis Staccato Utilizzando lei Come materiale E poi vabbè Gli attacchi I materiali Che lei ha E la carta Molto buono Perché le Exorcister Utilizzano questo Questo metodo Di evocazione Durante il turno Dell'avversario Quindi ti evochi Quello che ti serve Magari Utilizzi quelle carte Che banano Quelle carte Che negano Durante il turno Dell'avversario E gli fai Quella interruzione Quindi carta Veramente Molto molto Interessante Mazzo Che inizialmente Non mi convinceva Perché aveva Soltanto un modo Di bloccare L'avversario Ovvero Bloccandogli il cimitero Ma invece Piano piano Si vedono Sempre più carte Che comunque Interagiscono Con altri effetti E potrebbe essere Un mazzo Veramente Molto molto Interessante Andiamo un attimino A vedere Se magari ci sono Qualche novità Ricaricando la pagina Che non si sa mai Perché tanto Appena finisco Di caricare un video Escono fuori Tantissimi aggiornamenti Vabbè C'è L'aggiornamento Sul nuovo anime Di Rush 2 Ma finché Non arriva Qui da noi Non ha molto senso Andare a guardare Secondo me Ok Detto questo Fatemi sapere Voi Cosa ne pensate E noi Come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti E un saluto a tutti